Io ti sto avvisando, eh? Mi sono stancata, non ne posso più di te, eh? Non ne posso più. Senti, mamma, ti ho chiesto io di mettermi al mondo? No. Mi accompagni a scuola tutte le mattine? Chapeau. Mi vuoi bene? Chapeau. Mi lavi e stili tutte le magliette? Chapeau. È colpa mia quando ti arrabbi con papà? No. Ti metto nella classifica delle migliori mamme nel mondo? No. Parere mio personale? Mi sbaglierò? Amen. Per me è la qualità. Coerenza, mamma. Ma che cazzo sta a dici? Non lo so. Che significa chapeau? Non lo so, ma lo dice Cassano. Ma mannagliari muerti, sono cristiani. Aspetta, quello che sta con Natani. È loro mannagliari muerti, sono cristiani. Ma non è una parolaccia, chapeau. È loro mannagliari muerti, sono pagno.